Io sarò rapidissimo, quindi al dottor Giuseppe vorrei chiedere per tutte quelle persone che a torto collo hanno dovuto fare una, due, tre, quattro, cinque dosi di vaccini anti-covid che però al momento non hanno sviluppato nessun affetto avverso, ecco io vorrei sapere se c'è una terapia efficace per degradare la proteina spike e se c'è qualche esame che ti possa confermare che dopo la terapia la proteina spike si sia veramente degradata, per non correre rischi diciamo in futuro. Proviamo a fare anche subito l'altra domanda, il signore qui. Sì, buonasera, mi chiamo Nivel Ruini, sono di Modena. Chiedevo al dottor Di Bella sempre in tema di vaccinazioni, in particolare vaccinazioni pediatriche, quali sostanze possono essere utili per lenire gli effetti avversi di molti vaccini pediatrici che sono in fortissimo aumento da un lato e anche eventualmente quali sostanze sempre del metodo possono essere utilizzate per quei genitori che non vogliono vaccinare i loro figli per un motivo di precauzione. Ricordo, lei sicuramente lo sa, che il dottor Montanari e il dottoressa Gatti hanno analizzato centinaia di vaccini in questi anni, ovviamente sono stati come tutti emarginati, dove sono state riscontrate sostanze incompatibili con la vita. Quindi per un motivo di precauzione possono esserci anche i genitori che decidono di non volere vaccinare i propri figli. Quindi quali sostanze nell'un caso e nell'altro possono essere utili? E' un tema delicato questo... Certo, è un tema... Vaccinazioni obbligatorie. Beh, attenzione, è obbligatorio, non è vero che è obbligatorio. C'è il ricatto che se tu non vaccini i figli non puoi portarli alla scuola d'infanzia e all'elementare, ma non è vero che sia obbligatorio. E beh, ho capito però... No, all'elementare non è obbligatorio, tutto al più si pagano multa ma non è obbligatorio. Quindi il problema è il ricatto, come sempre, che se tu non fai certe cose io ti taglio certi servizi. Ma comunque, a parte questo... La domanda è poi è questa, scusi. Sì, sì. Ok, Giuseppe. Grazie a lei. Dunque, il problema è a monte. Intanto per cambiare un problema politico, la prima cosa da togliere è la obbligatorietà del vaccino. La prima cosa da togliere è quella, non è... Per cui il ricatto, allora tu non ti vaccini e non puoi lavorare, tu medico non puoi andare in ospedale, tu sei sospeso dall'ordine dei medici, genitore hai una quantità di difficoltà, in pratica sono tutta una serie di ricatti. Perciò, a livello politico, prima cosa, togliere l'obbligatorietà, ti vuoi vaccinare, ti vaccini, nessuno te lo impedisce, lasciare la libertà di scelta. Allora, le ricerche che hanno fatto i colleghi, quelle che facevano il riferimento prima, sono molto presevoli e sono interessanti. Quello che manca in questo contesto ancora, è quello che bisognerebbe fare sempre quando si dà una terapia, fare un rapporto tra effetti positivi, controindicazioni ed eventi avversi. Degli studi clinici, documentati, secondo i criteri della letteratura internazionale, che mi dicono, io faccio tre, quattro, cinque vaccini una volta, a questo bambino, ho questo tipo di risposta, ho questi vantaggi. Questo non lo possono dimostrare. Ora, se io invece, uno dei motivi per cui ho scritto queste cose nel libro, attivo nella misura massima fisiologica e non tossica, le capacità immunitarie, andando a interferire sui punti critici del sistema immunitario, parliamo di interferone, se io elevo la capacità immunitaria, allora io abbatto notevolmente il rischio di contrarre delle infezioni. Se questi prendono le infezioni, non arriva mai a livelli drammatici. Un esempio tipico, parliamo di interferone. I bambini, soprattutto a Modena, mio padre ne ha seguiti tantissimi, io ne ho seguiti tantissimi a Bologna, vi posso dire in maniera matematica, che se il bambino piccolo, piccolissimo, dalla nascita e comincia a prendere di noi della vitamina C e la vitamina D3, la percentuale di quelli che si ammalano da un punto di vista statistico è altamente significativa come rapporto di benefici, altamente significativa. Io a Bologna ho lavorato moltissimo con Motorino, anche se avevo dei colleghi più valenti, ho fortunato più di tutti, perché ho operato anche parecchio, ai bambini, prescrivo soluzioni del ritenore del cuore di mio padre. Ho avuto una quantità di effetti positivi, bambino piccolo, piccolissimo, a un anno, lo pesate, il peso diviso 10 uguale ml, 10 kg, 1 ml di soluzione di retinoide. La vitamina D la potete dare tranquillamente, 10-15 cose codificate nei bugiardini. Ora, basta questo per incominciare ad attivare una potenza del sistema immunitario che non immaginate, al punto tale che adesso c'è la proposta da parte dei ricercatori di riclassificare l'intero sistema immunitario in base alla presenza dei retinoidi. C'è teoria dell'acido retinoico e deplezione dei retinoidi. Se è presente l'acido retinoico parte immediatamente l'immunità innata, se non parte in ritardo quella adattativa. L'acido retinoico a livello è bisanetico e sa due geni precisi in cui interviene. Uno si chiama RIG, retinoico inducibile gene. Questo qua attiva immediatamente una glicolisi da parte del glicosio. Cosa vuol dire? Mi brusa di colpo, mi mette a disposizione un'altissima quantità di energia pronto uso, glucosio. Dove va a finire? Alle cellule tendritiche. Sono le prime che intervengono nell'infezione. Questa quantità che cosa fa? Fa una riprogrammazione glicolitica metabolica e biomeccanica. Perché biomeccanica? Perché i cellule tendritiche si spostano. Dove vanno a obiettivo? Tutta questa energia gli consente di proliferare rapidamente, di maturare, di dare il segnale alle cellule immunitarie che intervengono e di andare a bersaglio. Questo è un solo gene dell'acido retinoico. L'altro gene dell'acido retinoico è interferone stimolante gene, ISG. Questo a sua volta da una avalanca attiva un altro centenario di gene che producono delle proteine che intervengono a livello basi immunitario. Oltre a questa avete la C, la avete la vitamina E in altissima dose. Vitamina E, tutta la catena respiratoria basta della vitamina E. L'elettroriduzione, il flusso degli elettroni, il più potente blocco delle E, consente la massima biodisponibilità dei retinoidi perché gli scherma dall'ossidazione. Questo ha altre dosi di vitamina E, C e D. Vitamina D ha resettori in tutte le cellule immunitarie. C'è l'attivazione dell'immunità sia corpuscolata che l'immunità umorale. Se date queste cose, questa ossessione maniacale vaccinale finisce perché c'è un'attivazione dell'interno sistema immunitario ma senza creare dei danni. Fra le altre cose, quel bambino cresce meglio, cresce di più e in maniera ormonica perché i retinoidi hanno apparentemente un'attivazione, sono vitamine della crescita, però attenzione, ordinata, funzionale e sono tra le poche sostanze che hanno una tossicità differenziale perché sono tossici per la cellula tumorale, sono vitali per la cellula sana, per questo lo potete dare nel tumore. Il bambino cresce meglio in maniera ormonica. Piccole, piccolissime dosi di melatonina anche al bambino per evitare gli osteosarcomi, piccole dosi, ma se voi commissate con questa maniera, con la vitamina C, eccetera, eccetera, tutta questa mania, tutta questa ossessione maniacale finisce. Gli togliete la base scientifica, la base logica, la base razionale. Tornando alla politica, bisogna che la gente si faccia sentire obblighi a togliere praticamente l'obbligo vaccinale se lo devono rimangiare perché se no andando in questa maniera possono obbligare a fare un numero infinito di vaccinazioni e ci stanno già provando. Grazie dottore.